Vediamo, oh che strano, ma che strano che sia immortale, bambino di merda, figlio di puttana, quando ti pacciano quel glitch dell'immortalità di merda, nasconditi sotto al sasso più grosso, dentro al buco più profondo del mondo, te sei problematico eh, sei proprio un po' problematico. Nel frattempo, tra l'altro, se volete avere un po' di soldi su GTA Online e non essere frustrati come sto tizio, passate dal mio account Instagram, vi assicuro che vi passerà la voglia di usare il glitch dell'immortalità, ma vi avrà molta voglia di andare in giro a killare, perché avrete il portafoglio pieno. Ciao a tutti e benvenuti in la vendetta di Phanapton, perché? Perché questo pezzo di merda pusillanime si è permesso di killarmi prima di iniziare a registrare, come potete vedere da qui. E quindi, credo che gliela faremo pagare. Beh, è un po' difficile fargliela pagare, però con un laser distrutto. Senti, assicurazione per favore che qua mi sa che se no non facciamo un cavolo. E' vero allora che sai usare solo il laser. No, non è assolutamente vero. Non so usare neanche quello. Che cazzo di spawn di merda da figli di puttana, pezzi di stronzi è? Ma spawnamelo qui da... C'è un... L'aeroporto? Lo conosci? L'aeroporto grande, dove in genere gli aerei decollano e atterrano. Potevi metterlo lì? Sta a vedere che non me lo mette... Oh, bene. Me l'ha messo da qualche parte che non sia... NER BUSCIO DER CULO? Grazie, gentilissimo. Senti, ho a mi aprire un momentino mentre decollo. Grazie che... Perché ti devi disconnettere, figlio di puttana? Che poi tra l'altro c'è un problema. Alexa, accendi il climatizzatore. Ancora non ce l'ho qui in ufficio, il climatizzatore. Ma è una cosa che già sto programmando di installare nei prossimi giorni. Ce la fai? Ma che cazzo di problemi c'ha il controller in questi giorni? Non so se solo a me succede, ma non lo vuole caricare in nessun modo, se non collegandolo direttamente alla PS5, che non sarebbe un problema. Sono forse che sta in culo al mondo la mia PS5. E quindi niente, ce la prolunga. Ditevi se avete anche voi questo problema, se sono io l'unico stronzo. Dove cazzo è sto pezzo di merda che devo distruggere immediatamente? Eccolo qua. Ha uno sparo? Va bene. Va bene. Oh, ma guarda cosa sta per succedere. Indovino un pochino. Allora, 3, 2, 1... Muori! Ho visto un'esplosione. Com'è che non è morto? Ho detto, sai, quando dico muori, dovresti morire! Ma por... Minchia, lag allucinante che c'è quando con il cannone del laser tocchi uno specchio d'acqua. È inimitabile, scusate, ve lo devo mostrare un secondino, eh. Guarda, guarda, non riesci nemmeno a spunare la fiamma del jet da quanto lag, da quanto ci sono robe pesanti. Senti, bando alle ciance, dove cazzo sei? Devo... Ah, eccolo. Ma cosa cazzo fa? Va sotto al ponte e pensano di evitare... Ah, sì. Sì, tranquillo. Mi eviti. Non ti preoccup... Beh, sei proprio un coglione, eh. Se l'ha pure attivato fuori portata, ma sparisce. Sentite, ragazzi, vi voglio dire anche un'altra cosa. In questi giorni, spero siete d'accordo con questo, perché se no non ci posso fare niente. Vi sono reso conto che a me piace giocare a GTA Online, soprattutto in primo da killare la gente. Ho risco... Aggiungimi. Ok, va bene. Oggi voglio fare il tuo gioco, va bene. Dove cazzo è sto... Ehm! Non c'è. Scusami, è... Vince 752. Che spero effettivamente sia uno che vince. Ah, ok. Non lo so, eh. Non lo so. Io credo sia qualcuno che potrebbe volercela, voler qualcosa di male, no? Nei miei confronti francesi. Va bene, aggiungiamolo. Vediamo che succede. Già da così. E dal fatto che della crew X dai nessuno... È sul razzismo, eh. Attenzione. Però non lo so. Non mi ispira tanto. Vediamo. Che sta facendo? Hmm. Beh, morirà. Ecco che sta facendo. Oddio, mi si è buggato a radar. Ok, da quanto non succedeva sta... Eh, niente, è risuccesso. Mi si bugga a radar, mi viene zoomato. Non si capisce un cazzo. Allora, ragazzi, dite che si incazza se lo killo dopo che l'ho giunto? Beh, speriamo di sì. Bene, incazzati quanto vuoi. Tanto questo non cambia il fatto che... Te sfono. Perché è colpa tua se mi si è buggato a radar. Non è mai successo in anni e... Staccato. D'anni... Significa che la ragione sei tu. Vedete che... Devo killare un attimino anche questo, eh. Dite che si suiciderà, ragazzi, se proprio... Oh no, già tua madre! Tuoi proiettili esplosivi di merda. Te li puoi ficcare, sai dov'è? Indovina! Ha ha! Nel culo. Vabbè, c'è l'altro nostro amico qui. Credo lo andrò a killare in maniera, spero, originale. Che veicoli c'ho nel garage, ragazzi? Che veicoli aveva il vecchio proprietario? Non mi ricordo. Andiamo a vedere. Magari c'è qualcosa di originare. Di originare! Oh figlio! Ah, vio de... No! Mignot! Sì, vabbè. Ma non sei proprio normale, eh. C'hai qualche problema, eh. Ma qualche d'uno. Ma cosa fa? Cosa fai? Ma... Forse abbiamo incontrato il giocatore più scarso rappresentativamente parlando di GTA Online degli ultimi anni. Perché c'è gente più scarse, per carità, ma... È molto rappresentativa la scarsessa... La scarsessa, sì, ma... Di sto tipo. Per tutta una serie di circostanze che credo non sia necessario descrivere... Basta, che... Ma chi è che continua a cercarmi? Oh! E che cazzo? Vedo nemici sul radar ogni due secondi. Ancora. Arri... Oh! Ma che problemi c'avete? Guarda. Pem. Perfetto. E' un altro. Ma io non sto capendo, ti giuro, non sto capendo. Che cazzo scatenato! Cosa cazzo è successo? Cosa stai... Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Dove spara? Non ti capisco, bro, ma ora esploderai. E via che mi tirano sotto. Ma che è oggi? Ma toccatevi il culo! Oh, guarda chi c'è. Un oppressor, bene. E' il momento giusto per... Un attimo. Ah, passa attraverso l'albero. Ok. E' il momento giusto per... Lato ridor. Ma basta! Ma basta! Ma lascia stare! Ma perché lo devi fare? Che cosa fa questo? Non capisco. Non capisco proprio. Senti, facciamo che io faccio finta che tu non esista e me ne vado, d'accordo? Ok, grazie. Tanto tornerà sicuro che torna e a noi non ce ne sbatterà un cazzo. Perché è importante andare a kill... Ma dove stai andando? Perché devi andare via? Eh no, dai, però, ma perché? Perché devi... Perché devi fare... Hai proprio rotto il cazzo. Quindi ora, in questo momento, subirai la mia ira! Casi! Fanculo! Perfetto! Girano davvero un sacco di tryhard comunque in sto periodo. Gente con il nome YouTube, vabbè, ormai è una moda che non si può eliminare. La polizia pure è un'altra cosa che non si può eliminare, ma mandarla a fanculo, sì! Senti, c'è una Deluxo qui che deve fare una brutta finaccia. Orribile, grazie. Allora, tu, senti, torna di nuovo e non succede un cazzo. Senti, qua potrebbe esserci un problema. Vedo... Vedo... Un... Come cazzo si chiama? Beh, il coso in cui bisogna conquistare l'area. E... Devo dire che... Potrebbe esserci qualche immortale, eh. Ma così a naso. Vediamo. Oh, che strano! Ma che strano che sia immortale! Ma non l'avrei mai detto, pensa te! Bambino di merda, figlio di puttana, frustrato del cazzo, fallito di merda, non sai fare niente, non sai giocare, quindi sei costretto per forza di cose a fare così! Però ho gli occhi abbastanza irritati. No, in realtà è che sto piangendo per il tizio che aveva l'immortalità prima. Occhi di merda! Dovete funzionare! E dai, che cazzo? Entro e attiva organizzazione fantasma. Ma ficcatela su per il culo, sacco di merda. L'organizzazione fantasma, ma giocare... Non so, non normale! Giocare? Riuscite a farlo? Invece di fare organizzazione fantasma, fuori portata, oh fratello, bro, mi scrocchi l'organizzazione fantasma che non posso fare più un cazzo di niente? E che cazzo? E gioca! Ma sarà divertente. Essere un figlio di puttana penso sia... Dovvero molto divertente. Che cosa vuole questo con lo sparro? Stai lontano? Non ti permettere. Sentite, allora da qualche parte deve essere... Intanto c'è sto tipo, che anche lui da qualche parte deve essere. All'altro mondo! Ecco, ucciso senza distruggere l'elicottero. Questa mi era nuova! Te spara? Mamma mia, che furbo che sei! Fatti vedere un altro po'. Oh, e me sta a sparare col cecchino normale. Ma che c'avete tutti oggi? Tutti disturba... Allora, chi è il figlio? Chi è il figlio di puttana che mi sta sparando col fucile da cecchino? Poi non è quello giallo. Perché quello giallo che sta qui non può stare sparando. Un merdaccia brutta! Ho visto una cosa che tra poco... Minchia non ho più l'hangar qua. Allora, potrebbe accadere una cosa. Regà... Non lo so. Non lo so. Non lo... Ti distruggo! Ti distruggo! Non me ne frega un c... Ma sei scemo? Quanto cazzo puoi essere un cretino di merda? Disturba... Ma il missile mi ha distrutto il paracadute? Ma perché? Cioè, puoi? Puoi... Può accadere sta cosa? Senti, tippami qua, per favore. Non voglio saperne niente, grazie. E poi sta merda! Non sta caricà! Non sta caricà! Segna... Il simbolo della setta, però le barre non si riempiono. Oggi non ce la posso fare. Cazzo vuoi? Poi... Naso di merda! Penso di capire il motivo per cui c'ho sta cosa. Prima ho stuccato. Ho dovuto ovviamente limare. Si è riempita di polvere la stanza. Ecco perché. Perché tutta gente è problematica, oh? Se... Pensate di pure... Pure di fare la furbata. Ehm... Dai! Ma che cazzo? Ma lo stavo a distrugge io. Ma toccati il culo, figlio di puttino. Puttana con l'hunter. Mannaggia! Ti sfondo la vita! Ti sfondo la vita! Non dovevi farlo. Dovevo killarlo io, questo. Potevi starti fermo. Mannaggia il cazzo. Vabbè, intanto... Questo l'ho già trovato in sti giorni. Vabbè, eh... Non l'avevo killato. L'altra volta che l'ho trovato, lo killo adesso. Ah, guarda. Il sacchetto di merda l'hanno tirato su, eh. È arrivato il bidone della spazzatura... Il camion della spazzatura. Scusate di tirarlo su. Con lo speedo custom indistruttibile, eh. Ma ammazzati su GTA. Rosicone di merda. Allora, ok. Ci siamo. Sta arrivando. Vai! Sono pronto! Prontissimo! Vai, vai, vai! Vai che è morto! È morto! È morto! Sì! Ma sparati nel culo, pezzo di merda. Pensava fossi a piedi. Eh, minchia! È di già, in casa. Come vuoi tu. Mi si è surriscalato l'iPhone. Vabbè, utilizzerò la... Telecamera di sorveglianza! Ciao, ragazzi! Allora, mi hai già rotto il cazzo. Mi hai proprio già rotto i coglioni. Capisci? Rotti i coglioni. Quindi farò in questo modo. E ti distruggerò subito. Stai un po' a vedere. Scusami, eh. Scusami, sono qui. Pronto per distruggerti e rovinarti la reputazione un'altra volta. Bravo! Guarda, ha fatto proprio la scelta giusta. Oh, sono tornati. Perché? Spiegami il motivo. Lo sai a bordo di cosa sto... Ah! Scusa un momento. Oddio, oddio. Ma che problemi ha! Mannaggia a tua madre che t'ha cacato! Perché ci starà... Quello di prima che ho killato, che gli stai dicendo... Vai, 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 vai! Per favore, per favore! Devo recuperarmi la kill! Oh no, stanno tornando! Corri sacco di merda! Devi correre! E non fare in modo che questi possano... Ma... Mannaggia quanto cazzo si sono fissati! Porca di quella... Ancora, ridai, eh! Ma capisci? Se riesci... Riesci! Riesci! A comprendere! L'unica cosa che possono ringraziare è che in questo momento io non abbia i colpi blindati sbloccati, Se no... Mi avrei già fatto fare una di quelle figure di merda... Che se la sarebbero ricordata per tutta la vita! Intanto sta tornando... Sta tornando... Sto io tornando... Da nostre... Mannaggia! Il cazzo che è... Comunque oggi, regà, di quei pagliacci che davvero metà sarebbero bastati, eh! Eccolo là, il nostro amico sta tornando... Oddio! Te la faccio pagare di nuovo! Vieni! C'è qualcuno che non gli vuole tanto bene, che lo sta inseguendo... È il tizio che si è messo in off-radar prima... E che adesso è morto... Base? Pure? Renditi conto di cosa devo fare per andare sottoterra e evitare il suo orbitale... Perché non ho voglia di tipparmi in base! Renditi conto di cosa sto facendo! E sparalo l'orbitale, sparalo ora! Vai! Vediamo se ce la fai! Su GTA V per PS5 abbiamo migliorato i caricamenti... Lo sto vedendo, infatti è velocissimo questo caricamento, grazie... Che sessione di degrado che sta diventando comunque... X-Queen abbandonato... Eh beh, regà, situazione... Gizmo 74... Quello con lo spirito a casa di prima... In casa, Karma Lorde continua a girare con i jet... Adesso lo distruggiamo per concludere... Poi c'è il barcode in casa... Uno che si chiama ZZGod... In casa... Una mappa intera per arrivare finalmente da sto tizio... Che non so che cazzo stia facendo... Se sta killando uno ma... Poteva farlo in mille modi diversi... Ha scelto forse il più sbagliato... Ragazzi... Non ve lo voglio neanche cagare... Vi ringrazio per avermi seguito finora... E noi ci rivediamo... Alla prossima... Ciao...